Restate a Leporano, 19esima edizione dell'estate leporanese, siamo con il vice sindaco, dottoressa Iolanda Lotta. Due giorni dedicati all'iniziativa Vivi il Medioevo. Cultura, storia e aggregazione popolare e sociale. Sì, in questi due giorni c'è stato veramente di tutto. Ci siamo immersi in questo contesto storico, in questi due giorni. Vivi il Medioevo. Ieri c'è stata una sfilata, tutti in costume d'epoca e oggi invece ci sono questi campi dove rappresentano proprio il momento storico. È un momento di aggregazione sociale perché tutte le famiglie e tutti i ragazzi di Leporano si riuniscono e vengono coinvolti in questo progetto. Un'attrazione soprattutto per i più piccoli e non solo. Per i più piccoli quest'anno c'era la novità della spada della roccia, che i bambini come vedi si sono divertiti a sfilare la spada da dentro la roccia, però è veramente un momento di grosso espressore culturale. C'è stata tanta ma tantissima gente. Noi ringraziamo soprattutto l'associazione Il Castello per aver dato il suo presidente Raffaele Mele che ha donato alla nostra comunità questa manifestazione. Ci vuole tanti impegni, un coinvolgimento di tutte le ragazze e ragazze dell'associazione Il Castello che sono a disposizione e lavorano affinché questa manifestazione riesca veramente nei migliori dei modi. E visto il risultato siamo orgogliosi. Restate a Leporano. Restate a Leporano.